E allora buongiorno, buongiorno, siamo qui a Rodi Garganico alla Puglia Hotel Noi ci andiamo a disturbare un pochettino di persone che stanno facendo la sua vacanza, la loro vacanza qui seduti alle banchine vicino al bar della nostra spiaggia Vediamo un pochettino cosa ne pensano, come si sono trovati in questa settimana fantastica E allora andiamo a intervistare Buongiorno caro Tutto a posto, certo, qua Rodi Garganico è stupendo Siete un figlio di animazione veramente molto dinamico Ci avete fatto divertire parecchio, avete parecchie affinità splendenti Il posto è bellissimo E vi dobbiamo ringraziare per la settimana passata molto bene Allora io sono andata in tanti villaggi Allora dico la verità, all'impatto ho detto Poi ho detto un villaggio così veramente E complimenti agli animatori perché coinvolgono tutti E sono stato ovviamente bene Felice Bene, possiamo dire di non averli pagati che sono venuti qua Assolutamente no Nessuno gli ha allugato la 50 euro Va bene, allora siamo contenti di averli avuti come off Grazie a voi, grazie a voi Siamo divertiti E allora speriamo di rivedervi in una prossima struttura Assolutamente, assolutamente Grazie E allora buona giornata e buona continuazione Ciao Ciao